Per questo oggi dobbiamo collaborare perché dovremo affrontare una di quelle cose che noi non siamo in grado di affrontare I dropper su Minecraft Lo so Stef Sono molto preoccupato Sto già piangendo Non so se ci riusciremo Guarda mi sto piangendo Stef Però c'è una nota positiva Ok Il creatore della mappa ha detto my favorite youtuber e guarda ci siamo soltanto noi Quindi almeno ci apprezza Stef l'hai fatto tu vero? Sì Mi dice anche ti sì Era inutile mentire Dropper numero uno mi sembra abbastanza semplice Fede vedi che c'è l'acqua lì Sembra facilissimo c'è tipo da qui Fai così e ci vai facile facile Testalo prima tu Stef Fede Eh La terra Aspetta aspetta provo io C'era l'acqua diventa terra Vedi Mi sa che è una trappola Fede È acqua finta Penso di sì Secondo te è acqua finta Allora provo a ributarti Io non so perché rinasco qua Aspetta voglio prendere una bella rincorsa perché ho visto dovrei aver visto Che l'acqua è qui Cavolo c'ero c'ero vedi sì è una sorta di trappola Quindi teoricamente devo fare Ce l'ho fatta per noi Ma tu ne hai presa secondo me E anche io non capisco Ma Fede ma a me sembra che dovunque tocco Di fronte a me c'è l'acqua Anche a me sembra così eh Non ti so dire Allora Stef Era come stavo dicendo io Ho controllato Ho controllato E in pratica dobbiamo cercare di prendere le pozze d'acqua Nello stesso identico istante Ma ti posso chiedere perché Se è la prima volta che facciamo dei dropper Stiamo facendo quello che si chiama The impossible dropper Perché mi sembrava carino fare quello che era impossible Ok allora Io ho detto che gusto c'è se facciamo quelli semplici Lanciati sull'acqua E io devo cercare di ricordare Non mi ricordo dove Allora era subito dopo Quelle foglie là Mi sa lo vedi in quella specie di Prova a lanciarti sull'altro Vado Vai Vado Ok Ci siamo Ok mi sono ricordato dov'è Ok ce l'avevo fatta Dovrei morire un po' di volte prima Allora Ce la possiamo fare secondo te Teoricamente da qua Eh sì Ci sei? Vado Vai 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 Dovrebbe essere qui Ci siamo Ci siamo Ci siamo Allora tu sei un po' Cadi troppo dopo e quindi mi fai morire No no tu devi morire a priori mi sa Vai No Sì sì tu devi morire No io non devo morire Fidati Fidati Troppo tardi Ci sono Ci sono Hai preso il tipismo giusto Vai Vado mi butto Sì Ok Vado Ok Oh yes Adesso premo il bottone E abbiamo finito Eh ma io vengo da te Voglio premere il bottone anche io Scusami Steph Io ho fatto il lavoro sporco E sono morta per te E mi dici che non lo posso completare Eh Ma quindi cosa vuol dire Che uno lo può completare L'altro no Beh credo di sì Ciao Ah no ma io volevo premere il bottone Alla fine Andiamo al prossimo Ma mi ha rovinato tutto Però ci abbiamo fatto È stato anche un lavoro collaborativo Allora Collaborativo Io qui vedo la pozza Ok Mi sembra semplice Fatto Vado Vado Ok Ho fatto Steph Bene dai Questo ci puoi riuscire Fatto Ok meno male E il fatto è che lo confusa molto con questi cosi blu Ok Cosa aveva di impossibile questo Era facile Questo era facile anche per gente come noi Questo era comunque semplice Vabbè Il prossimo Tra le due cose di sabbia Tra le due colonne L'ho vista come se l'ho visto Allora Che fastidio Allora Geronimo Vado 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 Qua si impazzisce Qua Steph e Fere impazzisce Ce l'hai fatta Sì Davvero Non te ne eri neanche accorta Come che avrei fatto E' centrando la pozza Dai ma è difficilissimo Ma come hai fatto Fere Non ci credo Dai ma guarda Ero al centro perfetto No Fere sei troppo brava Lo so Sei troppo brava Grazie Guarda Fere il mio cadavere c'è arrivato Sappi che Ma ci sono delle sabbie mobili Secondo te Oh Perché non riesco minimamente Lo so solo io Io ho un'inquadratura strana Ok io ho un'inquadratura strana Via 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 che è un po' so brutto Aspetta Ah ok adesso mi è passato Menomale Non riesco a premere il bottone Pensavo mi fosse rimasto così il bug Ok No mi è rimasto così No no Ti si toglie Ok ok Probabilmente lo sappiamo bene Vediamo la prossima Allora L'acqua è lì Si vede Mi sembra semplice Ok Vediamo un pochettino Andando da questa zona Però ti consiglierei E secondo me Guarda mi butto dritto per dritto Ok What Ok E' un problema E' un problema Ok cavolo Ho capito Ho capito Devi stare molto Ma anche perché il mio spawn E' cadere nel nulla Ma 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 Io sarei andata su Quindi il problema C'è solo tu Steph Sì mi si è flippato Mi si è flippato Dai un po' di problemi oggi Sono tornato Ok Bello Ah è all'ultimo Io ci riesco Io ci riesco Io mi butto qua Dai Fede Se ti butti da dove ero io È facilissimo Da dove? Vieni nel mio Mi stai buggato anche a me No No Ti prego No ti prego Addio Steph Respona Addio Lo faccio all'infinito Faccio all'infinito Devi andare in game mode Beh prega nulla Devi andare in game mode È unico modo È un creative Fai quello che vuoi ma facci velocemente Ah sì al volo Ti devo far vedere il punto preciso Da cui farlo Dai muoviti No tipizzami tu Non riesco a farlo È che sono È perché ho altri comandi Non riesco Stifere Nicky Fiu Steph Il Magnifico Grazie Allora Mettete lo spawn point qua Ok un attimino Scrivi Dopodiché Vai spiega 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 Ti butti esattamente da dove sono io Devi soltanto scendere E poi andare un pochino a sinistra All'ultimo Ok Cioè Un pochino di difficoltà c'è Ma capisci che è molto più semplice Ce l'ho quasi fatta Sì Così è facile Questo secondo me l'avevo fatto Secondo me Se chiamiamo la var Me lo danno buona Cavo c'era Dai Mi sto in stanza C'ero 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 Eccolo Oh yes E Steph se ne va E Steph se ne va No dai aspettami What Che c'è Aspetta Wow Where is the button Cosa vuol dire Che ce n'è un altro Come ce n'è un altro E' un doppio livello Fere E' un doppio dannatissimo livello Dai cavolo però ci sono Steph Lo so Ti vedo Lo stai sfiorando tutto il tempo E' bello Quanto a sinistra devo andare E' un pochino Però all'ultimo Devi andare a palla all'ultimo Esatto Dai ma Allora io questa volta Chiaramente avevo mirato il pavimento Ho preso il pavimento E me l'ha dato La brutta notizia È che adesso Dobbiamo andare qua No Sì No io vado qua E se schiattiamo Ah no però possiamo impostare Lo spawn point Perché lui aveva detto Nelle regole L'unica cosa che possiamo fare E' metterci costantemente Lo spawn point Quindi fallo Prima di rilanciarti Ok è vero È vero che c'era Nelle regole Perfetto vai Aspetta Se vabbè E' talmente buio Che non si vede Poi dov'è l'acqua Ok l'ho vista E' abbastanza in fondo Io non l'ho minimamente vista Ma proprio 0 di 0 Ho fatto Ma che bravo che è Steph oggi Basta Steph Mi sono arresa Basta Va bene andiamo Ci ho provato per due ore e mezzo Basta Ho visto Ho visto C'erano dieci minuti di tentativi Guarda Allora l'acqua è dall'altro lato Io mi sento lo spawn point Prima di buttarmi Perché tanto ho capito Che mi bago costantemente Quindi Slash spawn point Ok Guardate quanto è morta Fere Che nella chat C'è il recap Di quante volte sei morta Non è vero Allora Ok Cosa sembra Oddio Steph Si fa buio a un certo punto Però ce l'ho fatta Io ho panicato Ma malissimo ho panicato Ma per quanto dura il buio Non vedo il bottone Ah devo cercarmi anche il bottone Ok Seriously Devo davvero cercare il bottone Senza neanche vedere Ma dov'è poi Ah eccolo Trovato Ok Me ne vado Arrivederci Almeno qua mi passa Ok Sì meno male Meno male Basta che capisci Fin da subito E poi non tocchi più Quando è buio Alla fine basta non toccare più Esatto Fatto Bravissima E dov'è il bottone ora Eh quello è difficile Eccolo 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 trovato Torna qui Ciao Fere E' buissimo Siamo alla seconda parte Perché siamo già agli altri livelli Stiamo andando bene Vai Oh no Oh bello questo No non è più bello Non è più bello Vado Allora spawn point Ehm No Steph Fatto Fatto Come Non lo so Non ne ho idea Cioè è impossibile Prendo tutti i vetri Vado Dai all'ultimo Era l'ultimo Ceri Te l'ho detto Non è così difficile Come sembra Perché c'è proprio Una via Vedi 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 C'era la via Alla fine È tutta scena Fere Non è impossibile Eh vabbè Oddio Vedere quei vetri Era davvero complicato Perché è bloccato Non lo so Si è flippato Può essere Non dobbiamo rifarlo Vero Fere Eh non lo so Si deve essere Ma sai che l'ho rifatto Al primo attentativo Vabbè Vabbè Allora Ehm Non lo so Forse abbiamo premuto Troppo in contemporanea Non lo so Mi sembra strano No Si è flippato Ascolta Steph Sai che ti dico No Fere Ho anche controllato E lui che ha rotto la mappa E che non ha sistemato bene I command block Spacca quel vetro Non puoi vero Non posso Ci penso io Aspetta Sì che posso Ci penso io Ci penso io Siamo Via Prossimo livello Non mi interessa Maledetto Sì abbiamo letto bene Abbiamo controllato Praticamente la mappa Si bugge in quel punto E quindi per forza Bisogna spaccare il vetro Ma è facilissimo Aspetta Spawn point What? Ecco ecco qua What? Che succede? Perché non mi funziona Ma è lo spawn point No perché ce l'ho io in mezzo Ah no Perché te lo senti Troppo nella punta Mi sa No no L'ho sentato bene Però non mi funziona Come si fa? Cioè ti sei rezzato Conti qua Allora appare Sì una Una specie di pedana Capito Ma è schivabile? Eh non lo so Aspetta che risalgo su Mi levo dalle scatole E risalgo su Sì è schivabile No non ha funzionato Niente a me Lo spawn point Maledizia Vabbè io la faccio così No non è Dai Aspetta L'ho fisso qui in un angolo Guarda Così non posso sbagliare It's impossible Game mode 2 Vai 2 Ok eccomi qua Pronta Ma come si dovrebbe fare? Ma sai che secondo me Dobbiamo ricollaborare? Ti faccio un 3 2 1 E tu ti butti Ma anche tu sei buggata? Non funziona Non funziona Ok quindi non funziona Lo spawn point Non funziona lo spawn point qua Esatto Ma pochi bug questa mappa Lanciati Vado Sì? Vado Teoricamente adesso scompare No Sì ha funzionato Ce l'ho fatta Praticamente Ho usato a te come esca Il muro ha smesso di comparire E son passato Ah ma Anche se stai lì sotto Comunque scompare Non compare più A me non è comparso Abbiamo sconfitto il muro Ma andiamo avanti Andiamo Dimmi che non è flippata vita E flippata vita Vabbè spacca tutto vai Spaccatutto Congratulazioni Io non posso Aspetta Ci penso io Ma fare con la TNT guarda Ma dimmi te Se io pensavo fossero impossibili Ce la stiamo pure cavando Per qualche strano miracolo Oggi deve essere il nostro giorno buono E riuscire a finirli senza Andiamo Andiamo Aspetta spawn point Mi ci attacco proprio a un muro Che io Ok Mamma mia che ansia Sti dropper Vai Questo è facilissimo Opla Cosa? Ho appena visto che L'acqua si è trasformata In Cosa? Int E non funziona Steph Lo spawn point Aspetta A hide in slime block Under a red carpet LOL Ah Quindi Uno slime block Nascosto Sotto Un tappeto rosso Cioè noi dobbiamo Ignorare l'acqua E dobbiamo Cercare Nei vari tappeti rossi Uno slime Che ci fa sopravvivere Quindi dobbiamo colpire tutti È proprio così Dai no È proprio così Non può averlo fatto Può invece Tutti Aspetta però ho visto un cartello Dove l'hai visto il cartello scusami? Cadendo di Eccolo L'ho visto Sta tutto in un angolo a sinistra Fere Lo vedi? Ho visto il cartello Ma non ho visto dove poi devo andare Dai che noia Sta roba però Adesso non lo vedo più Ora non lo vedo più Anche me ha fatto spawnare in mezzo È andato È andato Però lo rivedo È un pochettino più alla sinistra del cartello Yes Quindi Devo puntare più Yes Mi vedi rimbalzare? Ah ho capito Ho capito Aspetta vado Vieni Fere Ok Aspetta Devi continuare a rimbalzare per un po' ovviamente Con calma Con calma aiuto No Ok ce l'ho fatta Piano Fere occhio Piano A me ha riteleportato Clicca il bottone veloce Che succedeva? A me ha riteleportato via Ci sono bug strani qua C'è questa mappa È rotta Però è bella È divertente ma è rotta Sono belli Gli ho fatti bene Molto scenici Mi piacciono Non l'ho fatto E mi sono buttata Ormai è finita A meno che non lo finisci al primo tentativo L'ho fatto Davvero Cosa è di difficile? Che nell'acqua ci sono dei pezzi di vetro nascosti Indovina chi non funziona Allo spawn point anche se l'ha fatto A uno step Eh come hai fatto a indovinare? Non lo so E poi come hai fatto a farlo al primo colpo? Non lo so Allora funziona come quello dei vetri che tu hai fatto prima Di quelle cose che riesce al primo colpo e tu non sai perché Capisci? È successo e basta Eh il mio cuore Secondo me se lo riprovi muori Il mio cuore ha sentito il viole Quindi è andato tutto bene Secondo me se lo riprovi muori e basta Anche tu No Steph No Fere Non ci sei per niente Giura che adesso ti casco in testa Vai Io credo di aver capito Centro perfetto Sì ma dopo Cioè di curva Ci sei perché Non lo so io non mi ricordo più neanche come lo faccio Così Ecco vai andiamo Praticamente questi sono tutti bassi ma questo è alto Quindi voi dovete schivare questo all'inizio Ed entrare così a curva In modo tale da schivare questi Schivare questo ed entrare di così Fere neanche l'aveva capito Figuriamoci Ovvio Ultimo livello Steph Ultimo Sembra tutto colorato Guarda sembra un arcobaleno Oh carino come posto Andiamo Spawn point È arcobalenoso Steph Fammi vedere Sì è arcobalenoso Bello Spawn point Vado Sono caduta a caso Ok Ok Ma Fatto Dai non ci credo Congrats Grazie You made it Grazie No aspetta aspetta Che c'è? Aspetta Che c'è? Ci sono cose strane Steph Tipo? Ci sono cartelli strani Come cavolo fate passare in quel cavolo di quadrati Che non ci sta neanche il personaggio Dice che praticamente Oh congrats You made it Poi dice Seek Wrong place Cosa vuol dire il posto sbagliato? Che era La mappa talmente pagata E poi c'è un altro cartello che dice Please press kill There is nothing down there Quindi non c'è niente qui sotto Cosa vuol dire non c'è niente qui sotto? Qualcosa di strano Che non ci facciamo nulla lì Quindi che è stato inutile finire No però io vedo che c'è qualcosa qui sotto invece Fere C'è un passaggio segreto Steph Ti aspetto ma c'è 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 un passaggio segreto Ok ma io Eh oh Steph se sei scarso No c'è il pg magro te Non ci passa No l'hanno capito tutti che sei scarso Non ci passa Ti giuro C'è So grasso La prima volta che passo È scarso Non è grasso È scarso Non ce l'ho fatta Lo sappiamo tutti Vedi Steph che è un posto strano Guarda questo cartello Vedi Ma dov'è il passaggio segreto? Questo Guarda Ah è vero Oh C'è il vero finale della mappa What? Vedi Fere Siamo ricchi? Sì siamo ricchi Ma molto Dai carino Faceva di tutto Per farti ritornare alla lobby Invece questo è il vero finale Congratulazioni Grazie Ah ce l'abbiamo fatta Siamo davvero riusciti a finire i dropper Sono felicissima Poi guarda quanta ricchezza Cioè scusami eh Non vorrei dire Ma siamo davvero ricchi adesso Ragazzi Se ci siete Se ci siete Sciateci un like E se la prima volta che Tutto il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per non perdere Vedete i bisogni Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima